6 vittorie più un pareggio in 11 partite giocate più della metà in buona sostanza, 19 punti collezionati su 33 a disposizione, quinto posto, solitario in classifica, 10 punti di vantaggio sulla zona play-out, alzi il dito che avrebbe puntato la scorsa estate un solo centesimo su uno scenario del genere per il Gravina, sin cui la principale rivelazione del Gironiacca, ed invece è tutto vero, l'obiettivo neanche a dirlo era e resta la conferma della categoria, possibilmente soffrendo molto meno rispetto alla passata stagione, gli scenari però potrebbero cambiare al termine delle due partite che precedono il derby casalingo contro la Fidelis del primo dicembre, la prima è in programma domenica contro il Francavela insieme a Matera, la seconda sul campo dell'Ischia. Giochiamole, affrontiamole, vediamo i risultati che escono e sicuramente dopo due domeniche al risultato acquisito possiamo ragionarci su, però vanno giocate Mario, abbiamo parlato un po' tutti quanti, sia Nicola, Loi Odice, come hanno parlato un po' tutti quanti. La Serie D è bella perché vinci contro la prima, perdi contro l'ultima e sono tutte partite imponderabili. Io mi auguro che diamo seguito a questo filotto perché egoisticamente per quello che il nostro Gravina ce lo meritiamo, poi sarà il campo che ce lo dirà e se questo succederà sì, lì confermo che se facciamo due vittorie consecutive bisogna anche essere un po' come dire, umili sì, però anche obiettivi. Prima Gravina contro Francavela insieme si giocherà al 21 settembre Franco Salerno di Matera a partire dagli ore 14.30. Per il momento è così in attesa di tornare a giocare gli incontri casalinghi al vicino. Ci sta mancando tantissimo il nostro pubblico anche se devo dire veramente un grazie calorosissimo per la presenza comunque non dà poco conto di quello che abbiamo a Matera. Però il nostro stadio e la nostra roccaforte in questi anni ha dato sempre il valore aggiunto. E non per ultimo mi dispiace perché tanta gente non sta avendo la possibilità di godersi questa squadra così bella, fresca, pimpante. Insomma è una squadra che merita di essere seguita da tutta la città. Il miglior realizzatore in campionato del Gravina è Domenico Santoro con 5 reti. La copertina però se la merita tutta Peppe Chiara Dia all'undicesima stagione in carriera con la squadra della sua città. Tre reti e soprattutto la doppietta decisiva domenica scorsa nel colpaccio di Manfredonia. Peppe è un ragazzo straordinario, cura il proprio fisico in una maniera incredibile. C'è da aggiungere un'altra cosa, lui la mattina lavora. Cioè parliamo proprio cose inaudite, no? Perché per uno che pensa che gioca in Serie D con quell'età dovrebbe mantenersi in un certo modo. Penso che la cura Tiozzo sia la vera chiave di lettura di quest'anno perché si è arrivati a lavorare a un livello veramente altissimo di intensità dove Peppe poi organicamente è fatto in una maniera quasi un robot. Cioè lui è veramente devastante.